Prima di iniziare questo video ho fatto una veloce ricerca in rete e anche qua su YouTube per vedere quali erano altri video e altri articoli scritti sull'argomento. E quello che ho notato è che praticamente tutti trattano sempre il modo di come riconoscere il botulino negli alimenti. Nessuno però parla di come evitarlo, cioè come si sviluppa questo microrganismo e in questo video mi voglio proprio occupare di questo. Sì perché molti video e molti articoli parlano di controllare che nel vaso ci siano bollicine, controllare che il vaso sia gonfio, controllare odori o addirittura pensate un po' il sapore che sarebbe una cosa assurda. Ecco, tutte queste metodologie hanno solo un difetto che dall'esterno, dal gonfiore di un vaso, da un odore strano di un fermentato che poi strano esattamente cosa significa, non possiamo definire al 100% se nel nostro alimento c'è o no il botulino. Quello che possiamo fare è semplicemente buttare l'alimento in caso abbiamo qualche sospetto. Benvenuti quindi o bentornati sul mio canale, io sono Marco e qui troverete tante informazioni sui cibi fermentati, ricette, ricerche, curiosità, notizie, tutto ciò che riguarda gli alimenti fermentati. Trovate anche molte altre informazioni sul mio sito www.imianfermentation.it Ma ora andiamo subito al nostro Clostridium botulinum. Intanto, di cosa parliamo quando parliamo di botulino? Beh, è un termine estremamente generico. Esistono quattro gruppi di ceppi di Clostridium botulinum che danno vita a diversi ceppi sottostanti. In totale, tutti questi gruppi di botulinum possono produrre sette tossine riconosciute pericolose per l'essere umano. Questo batterio produce una neurotossina che appunto va a colpire direttamente il nostro sistema nervoso. Come ho già detto, esistono sette tipi di neurotossine prodotte dai vari Clostridium botulinum in base appunto al ceppo di produzione. Ed ognuna di queste tossine ha specifici effetti tossici sul nostro sistema nervoso. Si va dalla tossina A, che è quella tra l'altro più comune da un punto di vista di frequenza di contatto con l'essere umano, fino alle ultime tossine, la G, che sono diciamo quelle meno comuni. Ci sono intossicazioni da botulino alimentare, ma non solo. Ci sono intossicazioni da botulino da ferita o anche addirittura nei lattanti, nei bambini, solitamente provenienti dal miele, oppure intossicazioni di tipo intestinali per particolari ceppi di Clostridium che intaccano proprio il nostro intestino. La via principale comunque di intossicazione da Clostridium botulino, anzi dalla tossina provocata dal Clostridium botulino, è quella alimentare. Pensate che la tossina botulinica è il veleno ad oggi conosciuto più potente presente sulla faccia della Terra. E la dose letale per un uomo normopeso è di un nanogrammo. Con questa quantità una persona viene letteralmente uccisa da questo veleno. Parliamo quindi di una sostanza molto pericolosa e sulla quale bisogna stare molto attenti. Ed è per questo infatti che da un punto di vista sanitario esistono protocolli di prevenzione, esiste una solida prassi di produzione che appunto prevede una serie di passaggi, di trattamenti degli alimenti, eccetera eccetera. Proprio perché appunto la via principale di intossicazione da botulino è proprio la via alimentare. Pensate un po' che dal 1986 al 2010, sto leggendo uno studio che poi metto qui sotto nel link nella descrizione, quindi lo potete trovare direttamente lì, in questo arco di tempo in Italia ci sono stati ben 376 casi di intossicazione da botulino. Ma se andiamo a guardare nel dettaglio questi dati, vengono fuori delle informazioni davvero molto interessanti e una davvero sorprendente che anch'io non conoscevo. Pensate che 355 di questi casi sono da intossicazione alimentare, 32 sono riconducibili a botulismo infantile, cioè preso direttamente dal miele, 6 da botulismo da ferita e 3 da botulismo intestinale in un adulto. Per quanto riguarda il botulismo alimentare, si è potuta individuare la fonte certa del contagio solo nel 47% dei casi, per il resto non si è potuta individuare, quindi si suppone che sia di tipo alimentare. E di questo 47%, il 71% dei casi sono dovuti a contaminazioni da conserve domestiche e il 28% dei casi invece dovute a conserve industriali. Quindi, badate bene, le conserve industriali non sono esenti dal rischio botulino, anche se è ovviamente una percentuale molto molto bassa. E in merito alla tipologia dell'alimento, pensate che il 38% di queste intossicazioni è stato dovuto all'assunzione di un alimento sott'olio. Parliamo sempre di quel famoso 47% di casi che si sono potuti verificare in maniera certa. Quindi il 38% dovute a conserve alimentari sott'olio, il 28% a conserve sott'acqua, quindi ipoteticamente salamoie fatte male, il 14,4% a prosciutto di produzione casalinga, il 5,6% a formaggi, il 4,4% ad insaccati, il 3,8% a conserve di pesce, l'altro 3,8% a conserve di carne, ma pensate questo, l'1,3% dei casi da intossicazione da botulino sono dovuti ad alimenti macrobiotici. Non avrei mai pensato una cosa di questo tipo. Non so esattamente quali possano essere questi alimenti, però così c'è scritto in questa ricerca, in questo studio, quindi va bene, ce la prendiamo così come informazione. Se state guardando questo canale, è perché sicuramente siete interessati agli alimenti fermentati. E quando si parla di cibi fermentati o cibi in conserva, subito si pensa al botulino, soprattutto da parte di quelle persone che magari sono meno esperte sul tema e che meno ci sono fatte domande finora su questo argomento. Ed è una domanda, un dubbio assolutamente legittimo avere, soprattutto agli inizi, quando appunto le informazioni sono più scarse, magari state iniziando a guardare il mio canale da poco e vedrete che in realtà è un tema che io ho trattato già altre volte e già in maniera molto ampia. Una cosa importante da comprendere è che il batterio di per sé non è tossico per l'essere umano. Quello che danneggia la nostra salute è una tossina prodotta specificamente dal batterio quando passa dalla fase di spora alla fase adulta. In questa fase di crescita, il nostro Clostridium botulinum, ovvero le spore del Clostridium botulinum, producono una tossina che si diffonde all'interno dell'alimento. Ed è questa tossina che andrà a darci i problemi se viene ingerita. Ma quali sono le condizioni che permettono lo sviluppo delle spore e quindi la liberazione di questa tossina all'interno degli alimenti? Lo vediamo subito. La prima condizione è quella di avere un pH poco acido, ovvero un pH superiore a 4.6. Da questo parametro di acidità in su, quindi 4.7, 4.8, 5.5, eccetera, si apre tutta la fase di rischio di sporulazione del nostro batterio, ovvero le nostre spore si possono schiudere, si possono trasformare in batterio e produrre appunto la loro tossina. Quindi il tenore di acidità superiore a 4.6 è un fattore di rischio, motivo per il quale la nostra conserva deve avere da subito, dal momento in cui viene chiusa, confezionata nel nostro vasetto, già un pH inferiore a 4.6, oppure le nostre verdure fermentate devono avere un pH inferiore a 4.6, 4.5. Un altro fattore di rischio è la presenza di acqua. Sappiamo tutti che l'acqua è l'origine della vita, quindi se non c'è sufficiente acqua all'interno di un alimento, non solo il crostidium botulinum non si sviluppa, ma non si sviluppa in generale la vita, tant'è che gli alimenti essiccati in generale come cereali, legumi, pasta, farina, eccetera, sono considerati sicuri sotto questo punto di vista, anche se al loro interno o sulle loro superfici possiedono spore non schiuse di crostridium botulinum. Un altro fattore importante è la temperatura, e qui andiamo davvero sul difficile, perché molte persone pensano che basta mantenere un alimento, eventualmente a rischio, in frigo, per evitare lo sviluppo del crostridium. È vero, ma ci sono dei ceppi di crostridium, per fortuna non tanto diffusi, che proliferano, pensate un po', anche a 4 gradi. Ed è il motivo per il quale gli alimenti all'interno delle celle, dei laboratori o dei ristoranti, devono avere delle temperature inferiori ai 4 gradi. Per esempio, nel caso delle carni, la temperatura deve essere di 1-2 gradi per legge, perché la carne è uno degli alimenti più a rischio sotto questo punto di vista. Alimenti invece acidi, trattati termicamente, un contenuto di sale pari o superiore a 3,5% sull'alimento, possiamo conservarlo tranquillamente ad 8 gradi, senza avere rischi di contaminazione. Ecco, quelle che vi sto elencando sono proprio le condizioni precise di proliferazione del crostridium botulino. Attenzione, piccola interruzione, perché mentre montavo il video, mi sono reso conto di aver saltato un pezzo importante, un altro parametro fondamentale da controllare per la sicurezza delle nostre conserve, è quello del sottovuoto. Cioè, il botulino prolifera solo ed esclusivamente in un ambiente sottovuoto. Tutto ciò che avviene con l'esposizione all'ossigeno, parliamo ad esempio della fermentazione della kombucha, degli aceti, sono alimenti 100% sicuri e garantiti contro il botulino. Mentre purtroppo il botulino, da questo punto di vista, ha bisogno delle stesse condizioni ambientali, ovvero l'assenza di ossigeno, per proliferare esattamente come una verdura fermentata o come un altro alimento fermentato. Ma quali alimenti sono più esposti rispetto ad altri? Ecco, su questo non possiamo assolutamente dare garanzie, perché tutti gli alimenti sono a rischio di proliferazione di crostridium botulinum. Sono ceppi che sono, si dice, più proteolitici, cioè crescono più facilmente su substrati di tipo proteico, come carne, pesce, formaggi, eccetera, e ci sono invece ceppi non proteolitici, che invece crescono su verdure e su altri tipi di substrati, come ad esempio anche il miele, come abbiamo visto. Quindi non esiste un alimento più a rischio di un altro, ma queste spore di botulino esattamente da dove arrivano? Ebbene, queste spore arrivano semplicemente dalla natura, arrivano dal contatto del nostro alimento o delle nostre mani o degli oggetti, degli utensili che stiamo utilizzando in cucina con la terra, perché le spore del crostridium si trovano principalmente nel terreno e si trovano nel terreno perché si trovano nelle feci degli animali. Quindi soprattutto in quei luoghi dove noi abbiamo animali domestici, come gatti, cani, galline, pecore, eccetera, eccetera, ci può essere un aumento di rischio, per esempio, di presenza di spore di crostridium all'interno del nostro ambiente. Cosa che, voglio ricordare, è assolutamente normale. Noi, molto più spesso di quello che immaginiamo, entriamo in contatto facilmente con queste spore, ma non ne veniamo mai intossicati proprio perché queste spore non riescono a creare, a produrre la loro tossina durante la fase dell'ingestione della permanenza all'interno del nostro organismo. Non dobbiamo anche dimenticare che il nostro organismo è dotato di difese specifiche, non solo da un punto di vista dello stomaco, cioè dell'acido cloridrico che il nostro stomaco produce appositamente per eliminare il rischio, diciamo, batteriologico dei microrganismi, ma anche da un punto di vista intestinale. Quindi nel nostro intestino, se tutto funziona come deve funzionare, noi produciamo le difese necessarie ad evitare appunto una infezione da botulino, addirittura intestinale. Ma nonostante tutto, molte volte ci sono dei casi da intossicazione e questo avviene perché appunto la tossina viene prodotta direttamente all'interno del nostro alimento per una errata conservazione. Adottando questi sistemi di trattamento degli alimenti, in particolare per le conserve, noi eviteremo assolutamente il rischio di proliferazione del botulino all'interno dei nostri vasetti e quindi di produzione della relativa tossina. Domanda, ma se in un vasetto si è prodotta già della tossina e per esempio il nostro vasetto risulta gonfio quando invece non deve esserlo, come per esempio nel caso di una conserva di pomodori, del nostro miele o di un altro alimento, che cosa possiamo fare esattamente? Beh, le alternative sono due. O buttiamo via l'alimento oppure possiamo cuocere quell'alimento. La cottura a temperature di 80 gradi per 15 minuti o di 120 gradi per 3 minuti disattivano, letteralmente degradano la tossina botulinica all'interno dell'alimento. Ed infine, piccola parentesi sul discorso cibi fermentati e botulino. Vi ripeto, ho già fatto un video su questo, andatevelo a cercare, non so dove comparirà, andatevelo a guardare perché già lì tratto in maniera approfondita il tema. Però, giusto perché stiamo parlando di questo in questo video, voglio sottolineare che i cibi fermentati in generale sono esenti dal rischio di botulino che riguarda in particolare le conserve. Perché il clostridium ha una capacità di proliferazione molto alta in quegli ambienti proprio che sono stati sterilizzati, cioè in un ambiente dove non ha nessun altro tipo di concorrenza microbica. Mentre in un alimento fermentato noi proprio andiamo a creare la concorrenza microbica. E quindi la creazione di un ambiente di questo tipo va automaticamente a eliminare il rischio che il clostridium possa proliferare, proprio perché si lavora in senso contrario a quello che si fa nelle conserve. Cioè, al posto di sterilizzare, io vado ad incoraggiare la crescita proprio dei lattobacilli che, con tutta una serie di meccanismi che ho dimostrato nel video che vi ho già detto, impediscono la proliferazione del clostridium botulino. Bene, questo è tutto per questo video. Spero che sia servito a chiarire un po' le idee e i dubbi su questo botulino. Grazie per aver visto il video fin qua. Metti mi piace e segui il canale. Mi raccomando che mi fa tanto bene, mi aiuta tanto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!